Corri, ti prego, corri, corri, corri Cosa? Non stiamo nascondendo, ci dicemelo Dai, dai, dai Sento che ci fa un ruoto Ci fa un ruoto Ci fa un ruoto Senti passi, senti passi Sta arrivando Non mi ricordo Sento che dobbiamo tornare indietro da dove siamo venuti Senti, sì, mi ricordo No, di qua ce la sono Niente, abbiamo dovuto anche lasciare la mamma Mattina è finuto Abbiamo dovuto anche lasciare la mamma Dai, dai Adesso ti riuscire Sta arrivando qualcuno Sta, da, da Nona, parte, parte Tana, ti resta тем, per Lowгляд, faccio Tee, hogenommen Take the н bible Tee, ho saga activating Oh, dio, dio, oh, dio Oh, dio, oh, dio Oh, dio, oh, dio, oh, dio Il sta correndo Oh, dio, Oh mio Dio, comiti prego, comiti, 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 le scale, la scale, scendi le scale, dai, muoviti, che ci sta seguendo, l'uomo mezzo, mezzo bestia, mezzo uomo, ci sta seguendo, muoviti, dai, coraggio, andiamo di là, un'altra guys di una cosa, possiamo nascondirci di giugna, dai, dai, è la strada giusta, lascondiamoci, vado, lascondiamoci, vado, lascondiamoci, vado, sono qua, do bite, non ci troviamo, e se ci siamo passare pericoli, e dove passa la zona qua, ma che era quella cosa, la cosa, l'era quella cosa, l'altra cosa, l'altra cosa, senza la mappa è difficilissimo uscire da qua è difficilissimo che si fa Dio fammi vedere un po' fammi vedere un po' da qua non ce la faccio non ce la faccio io non ce la faccio io non ce la faccio io non riesco resta qua dai dobbiamo dobbiamo andare da di qua no, di là in buio dall'altra parte da questa qua noi siamo venuti da qua io si, mi ricordo bene e dopo c'è un'altra parte dove c'è come il verde dobbiamo passare da per di là no, la galleglie è dopo il tunnel è dopo ma prima c'è un'altra cosa che adesso mi sembra di ricordare che c'è un'altra parte che dobbiamo attraversare dove c'è il piano piano, piano 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 piano嗎 piano 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 Mrs. stami ha detto, ha detto la guardiana che se riesce a uscire da qui non riesce non può uscire perché odia la luce quindi si decide a essere pronta e poi odia anche il fuoco per quello che lei ha chiuso e non riesce a dir fuori comunque shhh passi tutti i passi ci sta seguendo quella cosa ci sta seguendo capito? dobbiamo dare il fiato questa è la parte del muschio verde quella che ti dicevo la parte del muschio verde questa qua è la parte quella che ti dicevo che siamo giusti abbiamo delle altre cose da attraversare abbiamo il tornello quello proprio la galizia i piccoli cecchi e poi lo gestiamo ok? ci sta seguendo ci sta seguendo ci sta dentro io sento che ti fa un armato ti fa un armato poi non puoi mi ti fa un armato scusami 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 dai ti fa un armato i piccoli aiuto 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 dai muoviti muoviti vai corri dove dovrei vantare adesso non sei d'accordo più fammi pensare fammi pensare fammi pensare pesci sta arrivando non mi ricordo siamo venuti devi qualcosa No, non so spiegare. Dio, oh Dio. Ma c'è? Ma c'è cosa? Ma c'è? Ma c'è? Dio, ah! 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 No, non si ci sono più pesati. Non è possibile che tu non ti ricordate. Non si può ricordare tutto io qua. Non abbiamo una mamma, non abbiamo niente. E poi la cosa, la cosa sta divando io, Pitu. Quella cosa sta divando. Adesso l'abbiamo seminato per bene un po'. Perché abbiamo corso fino adesso. Però non ci possiamo fermare. E là, da qua siamo venuti. Non ti ricordo, non ti ricordo. 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 Dai, dai, un coraggio. E siamo venuti. Ok, proviamo a andare di là. Un coraggio, non ti ricordo. Allora, dai via. Mamma mia, quanto è stretta questa caverna. Dai, vieni fuori, muoviti. Vieni fuori da via. Dai che stai arrivando. Questa è l'entrata vecchia per noi. E tratta vecchia per dove siamo arrivati oggi. Allora abbiamo fatto giunto giusto. Beh, mi sono ricordata. Mi sono ricordata da dove siamo venuti. Dovremmo esserci quasi. Sì, ecco. Dovremmo andare per di là. Per di qua. No, per di là, per di qua. Per dove? Quella cosa sta arrivando. Se non riusciamo ad uscire di qua. Vedrai che non ci farà del male. Non ci farà del male, sicuramente. Andiamo di qua. Andiamo, coraggio. Andiamo. Dai, dai che siamo quasi arrivati. Siamo arrivati all'uscita. Mamma mia. Andiamo via. Andiamo via, per carità. Andiamo via. Dai. Dai, coraggio, dai. Siamo fuori. Siamo fuori. Spengo la torcia. Fammi vedere un sorso. Fammi vedere un sorso. C'è veramente. Fammi togliere questi stilani. Fammi togliere. Sono stanca. Andiamo via, dai. Andiamo via di qua. Andiamo via. Fammi un piacere. Ma cosa vuoi andare via? Non puoi uscire più fuori. Non puoi uscire di lì, dai. Adesso io vado in macchina. Mi siedo in macchina. E... E andiamo a casa. Abbiamo un bel poco di strada da fare. Abbiamo un sacco di strada da fare, quindi... È meglio dare via. Credimi che è meglio dare via. Ascoltami. Dai. Ma come... Ma... Allora... Allora... Ma come mi vuoi dire? Cosa vuoi... Hai voluto fare? Ma come che ti ho messo in pericolo? Ti ho messo in pericolo, sai? E allora? E allora? E allora? E allora? E allora? E allora che ti devo dire? È stata un'esperienza. Abbiamo fatto un'esperienza. Adesso andiamo a casa. Sì, ci è andata bene. Che non ci mangiavano vive tutte e due? Eh... Eh... Lo so che c... Cosa devo dire? Cosa devo dire? Come non vieni più via con me? Perché? Perché non vieni più? Non ti... Ah... Va bene, dai. La prossima volta faremo delle avventure un po' più leggine, dai. Un po' più tranquille. No, dai. Allora l'unica cosa... L'unica cosa... È... È... È la mappa. L'unica cosa che... È... Che non... Che non mi sono potuta vedere è la mappa. Però dai... È meglio così. Piuttosto che qualcun altro la ritrovi e... E si... Qualcun altro la ritrovi e si metta in pericolo. È meglio così. Però mi dispiace molto per la guardiana. Perché... 3.000 anni che è là... È... È in solitaria. C'è... La creatura là che gli fa... Che gli passa tra i connicoli e però non riesca ad entrare. Perché gli dà fastidio il calore. Vabbè... Meglio così. Però... Poverina. Mi è dispiaciuto... Mi è dispiaciuto... E... Vedermela da sola. Ma... Mi è dispiaciuto proprio. E... Va bene dai. Andiamo a casa. Andiamo. Dai sali che andiamo a casa. Sì. Ti porto a casa. Stai. Ti porto a casa. Non ti preoccupare. Dai sali. E non ti arrabbiare dai. Abbiamo fatto un'avventura. Abbiamo fatto un'avventura. Ci siamo divertiti. E quello è... E quello che conta ecco. Va bene. Dai sali dai.